Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite a guardarle sono quasi immobili lune piene contro il cielo chiaro e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così senza legami colorate e immobili così anche noi anche noi con gli occhi controvento al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio nei pomeriggi delle città ma chissà dove è incominciato tutto chissà e chissà dove è incominciato tutto chissà anche noi anche noi anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo anche noi anche noi e allora questo è un problema con noi anche noi anche noi anche noi con le mani puntate al cielo Grazie.